A come RONTO BASTARDO CHE COME CHI CAZZO SEI B come Devi prenderle in mano prima E come Ecco questa è una situazione imbarazzante da cui prendere nota F come FORSE G come Grazia H come HOUSBIN HOTEL I come Io ti odio L come LA VENDETTA M E LA MA CHE RAZZA DI PROBLEMI AVETE M E NON SO CHE VOLDIRE E NON MI INTERESSA O come OK F come PERVERTITO Q come QUA CI VOLA UNA BATTUTA D'EFFETTA PER SCIOLIERE IL GACCIO R come RADIO INGEL DASTE S come SEI ASSOLUTAMENTE SPREGEVOLE T come TI VOGLIO BENE U come UN'ALTRA CHIAMATA IN ARRIVO V come VENIAMO A TE VOX ECCO L'ALFABETO ORA TOCCA A TE I TAST ECCO L'ALFABETO I TAM I TAM I TAM